Il Cittadella, e qui mi dovrebbe aprire anche un altro discorso un po' coraggioso e vorrei anche farlo, cioè il Cittadella, bravissima società, il figlio del Presidente straordinario eccetera eccetera, però non si possono sempre fare ogni anno i bambini con i baffi. Ora il Cittadella ha fatto benissimo a vendere tutti quanti i giocatori che ha venduto perché doveva incassare, però adesso non può pretendere di non rischiare, di non retrocedere. Ma lo sanno che rischiano, però dicono noi... E quindi ho sentito parecchi tifosi alviliti, una spina sul fianco, 4 punti... Sai cosa succede? Che una società vende un giocatore importante, massimo 2 a stagione, il Cittadella è esagerato nell'eccessione. Ma ha fatto benissimo, ha fatto benissimo, ha fatto benissimo. Se senti un direttore, il Carino Foschi, ti dice che il Cittadella ha fatto un mercato... Ha fatto benissimo, ha fatto benissimo. Non so, ti ho detto, ti ho detto... Ha fatto un mercato... Beh dice Lodi perché ha in uscita, perché è riuscito a ricavare da giocatori giovani... Ma non per questo, ti spiego io il perché. Perché con i soldi raccolti quest'anno, a meno che uno non si ritenga, ma il Presidente Gabriele sicuramente non lo fa così, ha garantito una gestione della società, in funzione anche di una retrocessione, ancora per tre anni. Appunto. Tu che ha fatto bene. Se poi quest'anno si salvano, perché sanno anche loro che rischiano, ha fatto bingo, hai capito, ha fatto bingo... Ha fatto benissimo il Presidente a vendere quello che ha venduto, però mi sembra che abbia venduto anche i pali delle porte, ha un po' esagerato. Allora, la filosofia vincente del Chievo è stata quella che prevedeva, alla fine di una stagione finalizzata a mettere in rilievo le qualità dei giovani più promettenti o dei giocatori più interessanti, la cessione per fare moneta. Il Cittadella non ha sbagliato nel monetizzare. Semmai si discute se ha sbagliato nel mettere in piedi un'altra squadra, cosa che al Chievo non è mai capitata.